Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 7 agosto questa è Fano tv come sempre alle 7 del mattino in diretta ci ritroviamo per sfogliare i giornali le pagine che abbiamo selezionato per voi anche questa mattina cominciamo però dal santo poi il tempo e i giornali dicevo allora il santo di oggi i santi sono santisisto secondo papa i compagni martiri il sole sorto alle 6.03 e tramonterà alle 20.26 uno sguardo al tempo con il sito della protezione civile delle marche per oggi vedete cielo sereno poco nuvoloso anche domani un po più di nuvolosità in aumento le temperature un po di vento nel pomeriggio poi lunedì lunedì la settimana si apre ancora con cielo sereno poco nuvoloso il graduale affermarsi dell'alta pressione delle azzorre determinerà poi nella prossima settimana condizioni stabili e soleggiate con temperature in lenta risalita almeno per la prima parte della metà della prossima settimana possibile ondata di calore attenzione nel fine settimana di ferragosto allora poco male nel senso che beh certo le ondate di calore non non sono un granché però siamo nel cuore dell'estate siamo nel mese di agosto e allora andiamo a collegarci subito con bagni 3 dove c'è il nostro Marco Marco Giuliani buongiorno Marco buongiorno a te buongiorno baciato dal sole questa mattina sarà una giornata calda una giornata bella immagino sì giornata calda già adesso vediamo vediamo che non c'è un'ora nel cielo e prevediamo una bellissima giornata con anche temperatura molto alta allora senti volevo dirti e qui do la notizia anche della della notte hai sentito il terremoto no no non l'ho sentito ho visto la notizia stamattina ma non l'ho sentito allora il terremoto lo diamo come notizia appunto ai nostri telespettatori alle 2 e 12 della notte alle 2 e 12 della notte bravo Riccardo mi ha anticipato e questa è la località vedete il punto dove a 10 chilometri di profondità si è sentita questa scossa di magnitudo 3.2 chiaramente alle 2 e 12 è un po' fatica perché siamo proprio nel cuore del sonno insomma un po' difficile sentirla ma insomma comunque questo è non c'è stato nulla di che allora invece finisce oggi il nostro collegamento la settimana con Fano TV grazie quindi a te e anche ai tuoi collaboratori a proposito facciamo vedere adesso ai nostri telespettatori questa bella immagine questa fotografia di te insieme a tutti i tuoi appunto collaboratori e quindi un grazie a tutti quanti per averci ospitato questa settimana grazie 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 anche a voi buon lavoro grazie altrettanto ciao ciao e adesso andiamo a vedere i giornali cominciamo dal resto del calino il titolo d'apertura già sospesi 15 medici non vaccinati provvedimento dell'ordine professionali ma alcuni si difendono ha avuto il covid la prima dose l'ho fatta Valentino che tristezza a Tavuglia ma l'amico Vasco Rossi lo esalta campione hai fatto la storia dice il Blasco e poi la fotonotizia Green Pass è subito guerra attacco social ai locali che lo applicano Urbino meno visitatori a Palazzo Ducale e poi la VL si parte il 6 di ottobre subito dopo derby Petrovic-Repegia e poi l'Alma-Fano fuori dalla Serie C ma alcuni stadi sono peggio del Mancini e quindi come dire speriamo ancora in qualche sorpresa poi c'è la cronaca il bandito è una donna strapperrello e Rolex e fugge anche la vittima è una donna la provincia invece rischia di restare senza acqua perché la siccità non tra tregua il Burano al Burano hanno aperto il Pozzo il Corriere Adriatico invece vaccini prime sospensioni questo è il titolo d'apertura dell'edizione di Pesaro l'ordine ha inviato 15 lettere ad altrettanti professionisti tra loro non solo medici ma anche dentisti nelle Marche si abbassa l'età dei contagiati 27 anni, scuola e trasporti i paletti del nuovo decreto a centro pagina per la VL esordio a Sassari è uscito il calendario degli incontri la Serie A il calendario asimmetrico e poi pronta la sfida da 600 milioni per gli ospedali marchigiani il piano è certamente di quelli ambiziosi scrive il Corriere questa mattina una visione complessiva dell'edilizia ospedaliera che coniughi la realizzazione di nuove strutture al restyling dell'esistente con alla base un approccio più territoriale alla sanità questo è il progetto sulla carta che dovrà confrontarsi con i paletti del decreto Balduzzi sei nuovi ospedali per una sfida da 600 milioni e poi in breve emergenza idrica dopo 4 anni si riapre il Burano finge di essere una vecchia amica alle Ruben Rolex fatture false a Fano scatta un sequestro di beni per 70 mila euro e poi nel futuro di Valentino anche un principe arabo si rincorrono le indiscrezioni sull'Academy la sindaca di Tavuglia dice la città, il paese sarà sempre con lui le pagine interne cominciamo dal problema della siccità Pesaro e Fano sono a corto d'acqua aperto il Burano la crisi idrica incombe sui comuni delle vallate del Metauro e del Foglia e le previsioni non sono buone l'assessore regionale Aguzzi dice ad agosto purtroppo non pioverà a secco il fiume Metauro da ieri è stato aperto dunque il pozzo del Burano per non lasciare senza acqua le città di Fano e Pesaro e anche quelle delle vallate del Metauro e del Foglia si è partiti ieri spiega l'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi con 400 litri al secondo da oggi si scenderà a 150 litri al secondo una quantità di acqua piuttosto bassa ma sufficiente per l'approvvigionamento idrico di Fano e Pesaro e degli altri comuni interessati sempre sulla questione della siccità che è un problema un problema davvero serio Mezzogiorno di sete questo è il titolo aperto il Burano il Corriere Adriatico il pozzo per fronteggiare la crisi idrica al ritmo di 150 litri d'acqua al secondo per servire la costa l'ultima volta che è stato aperto il Pozzo del Burano è stato nel 2017 e la decisione di aprire il Pozzo puntualizza sempre Aguzzi darà sollievo agli impianti di potabilizzazione di calcinelli ma questo incontro ci consente di evidenziare i cambiamenti in atto non parlo solo di quelli climatici ma anche dei fabbisogni d'acqua che chi prima anzi attingeva dai pozzi privati oggi deve rifornirsi dalla rete dobbiamo conclude fare i conti con un'altra realtà che impone delle nuove decisioni strategiche la D Marche Multiservizi Tiveroli questa volta il prelievo però non sarà doloroso a Fano scontro tra un'auto e uno scooter paura sulla statale il Centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale San Salvatore illesi gli occupanti della Scoda Disagi Scoda è la macchina Disagi al traffico è successo intorno alle 16.30 quando questa coppia di turisti dopo aver trascorso qualche ora in spiaggia si apprestava a far rientro a casa svoltando a Fano verso Fano all'altezza del sottopasso una coppia formata da un uomo e una donna di Cremona c'era anche una bambina di due anni che viaggiava con loro però è solo rimasta spaventata poi invece il Centauro è un 37enne marocchino poi c'è questa notizia invece sempre sulla prima pagina del resto del Carlino la polemica la polemica qui nella foto vedete l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi che è anche vice sindaco e allora stadio il problema è lo stadio la polemica nasce dopo le dichiarazioni di ieri di Gabellini che è ex stato per diversi anni patron il proprietario della squadra di calcio dell'Alma Juventus Fano il quale ieri sempre sulle colonne del resto del Carlino aveva attaccato la giunta in particolare l'operato di Cristian Fanesi sul nuovo stadio perché quello che abbiamo il Mancini si ogni tanto ha una rispolveratina un restyling adesso hanno messo anche le luci nuove però ecco evidentemente non è soprattutto per la Lega che si occupa del calcio non è al top e allora ieri c'è stata questa uscita molto politica di Gabellini oggi c'è la risposta del vice sindaco il quale dice sul nuovo stadio e l'esclusione del Fano Calcio dalla serie C Fanesi risponde a Gabellini ex patron della squadra che ha accusato il Comune di investire su una struttura vecchia e di non progettare il nuovo stadio a Chiaruccia e sentite che cosa dice appunto che cosa dice l'assessore mi sorprende che Gabellini parli di stadio nuovo quando l'amministrazione gli ha sempre mostrato disponibilità sulla realizzazione dell'opera peccato che ad un certo punto sia scomparso e quel progetto lo abbia messo nel dimenticatoio è chiaro che non gli fosse più utile e ancora Fanesi che che è anche assessore alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi dice mi fa sorridere che Gabellini alla mattina si svegli costruttore e alla sera si addormenti ambientalista il riferimento è alla variante di Gimarra variante di Gimarra che come sapete prevede una strada che passa vicino alla villa di Gabellini e qualcuno i maligni dicono che si candiderà a sindaco proprio per togliere questa variante e salvare la sua e altre abitazioni da questo scempio ambientalista ambientalista comunque mi fa sorridere che Gabellini alla mattina si svegli costruttore e alla sera si addormenti ambientalista da un lato fa l'ambientalista contro la realizzazione di nuove opere viarie e dall'altro è convinto è un convinto sostenitore del cemento con un'opera come lo stadio lo stadio nuovo in particolare l'ex patron dell'alma Juventus Fano aveva invitato Fanesi a fare meno proclami invitando alla città di prendere schiaffi in faccia e l'amministrazione comunale ad avere orgoglio serietà e lungimiranza per progettare gli impianti Gabellini ieri se ne era presa per appunto questa esclusione perché dice l'amministrazione non investe e risponde per chiudere Fanesi dicendo sono felice che Gabellini abbia finalmente assecondato le sue ambizioni politiche il riferimento appunto è alla sua candidatura a sindaco che ancora non è ufficiale ma c'è avviando la campagna elettorale da sindaco in vista delle amministrative 2024 e chiude con questo augurio e dice mi auguro fortemente che il centrodestra lo candidi come dire se lui sarà il candidato noi continueremo a governare come centrosinistra la città di Fano Goletta Verde siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico Arzilla inquinato e qualcuno ha coperto il divieto rilevati alla foce batteri fecali oltre il limite ma 30 metri a nord quindi del specchio dell'Arzilla il mare è di nuovo balneabile dunque tutt'altro che eccellente lo stato delle acque alla foce del torrente Arzilla di Fano infatti questo pezzo risulta ancora inquinato secondo le analisi di Goletta Verde il campionamento è stato fatto lo scorso 19 luglio nell'ambito del monitoraggio della qualità dei mari italiani che si svolge ogni anno grazie appunto all'Ega Ambiente e questo campionamento questo prelievo questa boccetta d'acqua è stata presa prelevata alla foce del torrente che divide i litorali di Arzilla e Lido ora Fano esclusa dalla Serie C sospetti sui ritardi dei lavori anche qui il Movimento 5 Stelle questa volta la politica interpella Fanesi sui tempi per l'adeguamento dello stadio Mancini poi un pauroso schianto a Fosso sei ore codice rosso per un motociclista coinvolto un gruppo di turisti lombardi e un 37enne risultato però fuori pericolo poi c'è il selfie di Giovanotti sempre sulla pagina di Fano del Corriere un selfie che si è scattato Giovanotti in riva al mare ovviamente subito questa foto è stata presa rilanciata ovunque in maniera anche forse un po' troppo ossessiva ma comunque Giovanotti è sempre un piacere ospitarlo così come tutti sono nostri ospiti graditi qua nella nostra città però insomma ecco adesso con calma ieri sembrava che è arrivato non so chi comunque Giovanotti a Fano e quindi ci fa piacere e poi la Fano dei Cesari come 2000 anni fa oggi e domani allestimenti e riproduzioni dell'antica Roma alla corte malatestiana sarà una versione più contenuta rispetto al passato ma l'atmosfera che si respira intorno alla Fano Fortuna e quindi la Fano dei Cesari è sempre ricca di fascino allora per chi volesse partecipare oggi e domani alla corte malatestiana a partire dalle ore 18 ci sarà questa due giorni dedicata alla storia grazie soprattutto a questa volontà anche dell'assessore Lucarelli come scrive il giornale che ha voluto fortemente questa iniziativa chiaramente la Fano dei Cesari è la Fano dei Cesari quando c'è la corsa delle bighe quando c'è la sfilata in costume romano quando si respira davvero in giro per la città la romanità è per il motivo che tutti sappiamo una cosa un po' più ridotta però il fatto che comunque anche quest'anno sia riproposta anche se si parlerà molto a livello culturale ci sarà qualche dimostrazione qualche manovra di questi soldati in giro per la città però per il resto ecco è tutto molto però io penso che per qualcuno di noi e anche per i turisti che si trovano nella nostra città sarà un bel vedere allora la cronaca sulla pagina di Pesaro ancora del Corriere Adriatico pagina 13 le si rivolge come una sua vecchia amica questo è un trucchetto che ormai adoperano ed è un cliché che resta sempre quello si presenta come una sua vecchia amica poi le strappa il Rolex dal polso e scappa la rapina in tarda mattinata nella zona mare di Pesaro in viale Napoli angolo viale della Vittoria una donna di bella presenza ha avvicinato una signora e con la ormai nota tecnica dell'abbraccio di una vecchia amica le ha strappato il Rolex dal polso poi in tutta fretta si è diliguata a piedi per la via della zona mare e questo è quello che accade un po' tutti gli anni e sempre in qualsiasi periodo dell'anno insulti e botte alla moglie non potrà più avvicinarsi il divieto è stato emesso dalla questura dopo la denuncia della vittima la donna è una rumena di 44 anni che non ce la faceva più a sopportare le continue angherie del marito che è un quarantenne rumeno anche qui sul Carlino donna scippa un Rolex ad una passante poi più sotto invece doppio incidente in autostrada ieri pomeriggio poco dopo il casello di Cattolica bloccata la corsia a sud ci sono stati anche dei feriti all'uscita diciamo in base a queste notizie che sono state raccolte in tarda serata c'è questa uscita di strada di una motociclista poi altre auto che hanno tamponato ma sai a quell'ora è sempre difficile poi con l'autostrada con quelli dell'autostrada è sempre difficilissimo avere informazioni e quindi insomma poca roba ma non è successo granché sulla pagina del Corriere ancora di Pesaro Angar un conto da 6 milioni ma c'è il via libera ai fondi GSI lavori al vecchio Palace Belloni scusate lavori al vecchio Palace Belloni l'assessore dice per ottenere i materiali d'estate è una guerra come dice è difficile quindi ci sono dei ritardi che non dipendono da noi sull'Eurovision invece Pesaro continua la sua corsa è stata superata la prima selezione siamo tra le 11 città candidate ad ospitare l'evento più importante d'Europa l'evento musicale più importante d'Europa non sarà un percorso semplice ma abbiamo superato la prima fase e crediamo di avere tutte le carte in regola per avverare questo sogno e dunque si prosegue e vedremo adesso che cosa con chi dovrà vedersela Pesaro per ospitare questo grande evento Valmetauro da Fano fatture false per evadere il fisco ricompensato con 70 mila euro sequestrato dalla finanza ad un sessantenne fanese un importo pari in denaro e quote sociali emetteva con la sua impresa fatture false a favore di alcune società che in questo modo potevano abbattere l'imponibile fiscale e pagare meno tasse sotto invece da Fossombrone il club civico pensatoio appoggia Massimo Berloni lo vedete in questa fotografia Massimo Berloni ha già detto pubblicamente che si candiderà alla guida della città di Fossombrone e riceve dunque anche il sì del club civico sia la candidatura a sindaco dell'imprenditore con una lista trasversale e appartitica ex discariche invece a Pergola residenti sul piede di guerra allarme per la richiesta di una società di bonificare l'area cercano il profitto ora dopo l'intervento congiunto di pochi giorni fa da parte dei sindaci dei comuni di Pergola San Lorenzo in Campo e Fratterosa in merito al no al progetto di riapertura dell'ex discarica di San Cristoforo alcuni cittadini residenti in zona hanno affisso alla recensione dell'area degli strigioni di protesta per il possibile intervento progetto avanzato dalla Revicta SRL mentre da Cattolica la notizia di un museo per Valentino Rossi se a Rossi piace noi ci siamo Tavuglia è sempre con lui un messaggio di ringraziamento della sindaca Paolucci dopo l'addio al MotoGP non temiamo ripercussioni come indotto i suoi fans infatti continueranno a visitarci e poi ci sono alcune dichiarazioni così come ce ne sono state veramente tante in queste ultime ore dopo l'annuncio di Valentino Rossi Vasco Rossi suo amico dice ha vinto stravinto e vinto ancora anche con una decisione difficile la fidanzata sei l'emozione più bella della vita tutto il mondo è per te amore dice la fidanzata di Valentino e poi c'è un'indiscrezione che pubblica il Corriere l'Academy conquista il principe arabo ma è un'indiscrezione che già avevamo visto nell'altro quotidiano sempre il Carlino invece su Valentino ci ha fatto innamorare tutti il risveglio di Tavuglia dopo il ritiro del campione l'edicolante che l'ha visto crescere poi c'è il barista che invece dice speravo demorì prima insomma in tanti in tanti si sono commossi scrive Masetti sul giornale di questa mattina il tabaccaio dice che botta e pensare che io prima di lui non seguivo neanche le gare dei motori insomma come dire davvero tutti si sono innamorati grazie a Valentino insomma non poteva che essere così una carriera la sua lunghissima 25 anni l'unico rimpianto diciamocelo è soltanto ma l'unico insomma piccolo è quel 10 mancato ma per il resto insomma 9 titoli ridati campione del mondo per 9 volte se fosse stato il 10 ok ma insomma pazienza Vasco Rossi che lo glorifica dice amico mio hai chiuso un'epoca ci conoscemmo nel 1996 un fenomeno più unico che raro per lui ora pronte nuove avventure e adesso invece c'è il bello di poter far crescere nel suo range i giovani che sono appassionati di moto parliamo invece adesso di calcio la pagina sportiva del Corriere la Vis sfida il San Marino continuiamo la crescita il tecnico biancorosso Banchini dice anzi si aspetta un salto di qualità da parte dei suoi giocatori si gioca allo Stadio Benelli a porte chiuse a partire dalle ore 10 e 30 e poi anche la Vis ha salutato il dottore ieri a poche ore di distanza dal radio di Valentino Rossi il club pesarese ha voluto onorare Valentino Rossi con un post sul suo profilo Instagram intanto invece un'altra squadra di calcio non parlando di calcio giocato ovviamente ma di promozione in questo caso perché il blog dei tifosi della Vigor Senigallia è stato bloccato e probabilmente su questo blackout c'è l'ombra di un hacker cioè di coloro che si infilano dentro il computer altrui per far danni il fondatore Luciano Rossini dice teme di essere finito nel mirino dei pirati informatici ma lui dice io vado avanti poi c'è il Fano il Fano e il ripescaggio questo ripescaggio infinito il Fano non molla è atteso entro martedì l'esito del ricorso al CONI per riprendersi il quarto posto nella graduatoria d'accesso alla serie C ad alimentare le speranze e lo stato degli impianti di altre tre società pretendenti pronto il piano B in caso di risponso negativo sotto accusa l'impianto di illuminazione dello stadio di Andria oltre a quelli di Lucca e Pistoia e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro un buon fine settimana l'appuntamento con la rassegna e per lunedì mattina alle sette arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.